Si torna a parlare dell'avvertenza riguardante la Betafence, l'azienda di Tortoreto che produce recinzioni metalliche di proprietà del gruppo britannico Presidiad. I sindacati provinciali del settore metalmeccanico hanno annunciato per il 7 marzo un importante incontro con l'azienda utile a prorogare gli ammortizzatori sociali e a fare un nuovo punto con la proprietà. Ben 8 persone abbiamo visto apparire e scomparire, gli ultimi due che sono arrivati sono presentati come nuovi interlocutori e gestori del sito di Tortoreto. Quindi non abbiamo più fiducia in queste persone perché non ci vediamo chiaro, anche perché l'azienda ha dichiarato che l'obiettivo per il 2022 era 20 milioni di fatturato, ne ha fatturati 15, di cui questi 15 milioni di euro provengono da prodotti acquistati e rivenduti, non prodotti nello stabilimento di Tortoreto. Quindi il fatturato si aggira a 6 milioni. Ricordiamo che la Betafence di Tortoreto negli anni d'oro è arrivata a fatturare anche 45 milioni di euro, quindi stiamo parlando del niente. I nodi da sciogliere sono sempre gli stessi, oramai sul tavolo da tempo. Ad oggi 97 dipendenti dai 155 iniziali presenti nell'azienda Tortoretana sono in regime di contratto di solidarietà. Ricordiamo che l'ammortizzatore sociale innanzitutto continua ad essere importante perché siamo coperti fino a ottobre 2024, ma adesso è importante anche stabilire e accordare quelle che sono le integrazioni, perché ad oggi noi abbiamo attraverso l'azione sindacale, e questo lo sottolineo, ho riportato a casa un'integrazione del 70% sul contratto di solidarietà. Adesso bisogna mantenere le medesime condizioni perché il periodo economico per le famiglie e per i lavoratori è estremamente complesso. Immaginare di riportare gli stipendi da fame con la cassa integrazione sarebbe certamente una bomba sociale. Per di più rischiamo certamente di, come dire, la fuoriuscita di tutte quelle figure che sono oggi fondamentali per la betafence e per la ripresa della betafence. I sindacati temono che la proprietà britannica stia pensando di chiudere e di smettere il sito produttivo di Tortoreto. Non perché l'azienda sia andata in crisi, anzi nel momento in cui sono stati dichiarati gli esuberi, era piena di commesse, ma per logiche di pura speculazione finanziaria. Vogliamo un piano industriale che dia prospettiva a questo sito industriale, ma altrettanto vogliamo che affancato all'ammortizzatore sociale si sia la riqualificazione del personale interno e mettere in piedi anche delle riqualificazioni per coloro i quali andranno fuori, perché purtroppo succederà questo e non possiamo aumentare questo numero di disoccupati in questo territorio già devastato.